Allora, ciao ragazzi, eccoci di nuovo. Abbiamo finito di pranzare perché era lo scopo della mia gita, era quello di venire qua a pranzo. Ho mangiato un'ottima pancetta stufata al forno, col sughetto, con un po' di peperolatina. E una parte del mio goulash. Giusto un pezzettino, un assaggio passato dalla bocca e è sparito. Poi abbiamo perso Min. Min è il nostro amico cinese, padre della nostra amica Cristina. Eccolo là dietro, forse si vede. Min! Eccolo che sta scendendo. Eravamo un attimo preoccupati perché lui è andato a farsi una corsetta in mezzo al bosco. Al mezzo al bosco, sì, è davvero molto molto bello. Questo è l'agriturismo dove eravamo a pranzo, qua dietro. Rati Ointzinger, ricordatevelo. Eccolo qua, abbiamo ritrovato Min. Per fortuna! Per fortuna. No, ero un attimino preoccupata perché è lassù che sta camminando, non lo so. Adesso sì, bello, bello, bello quell'altro. C'è il cane. Comunque adesso si pensava, visto che dobbiamo un attimino mandare giù questo fettino di pancetta, non ho mai fatto il dolce. Cioè, ci tengo a precisare che non ho mangiato il dolce. E sono problemi, questi sono davvero problemi. Però, eccolo là, però adesso abbiamo deciso di andare giù a... no, giù, su. Andiamo su Lussari. Perché portiamo Cristina e i suoi genitori su Lussari, perché visto che ci siamo, visto che il tempo regge e non dovrebbe arrivare pioggia, almeno speriamo. Non chiamiamola assolutamente. Non chiamiamola, comunque, adesso... Diriamoci che arriva Cristina. Diriamoci che arriva Cristina. Diriamoci che arriva Cristina con sua mamma. Eccola qua dietro. Adesso vengono su anche loro. Cristina saluta. Eccola lì. Bene. Ci vediamo da Lussari più tardi. Ci vediamo da Lussari sicuramente. Abbiamo trovato Ming, adesso siamo più contenti. Ciao. Ciao.